Oggi in tutto il mondo giornata mondiale del rene, un evento voluto per sensibilizzare sulle patologie renali. A livello mondiale entro la fine del 2010 ci saranno 2 milioni e mezzo di pazienti in dialisi cronica di cui più di 50 mila in Italia. Fra i primi consigli che danno gli esperti quello di tenere sotto controllo la pressione arteriosa ed effettuare un esame dell'urina. Quest'anno a Bari si è voluta celebrare la giornata del rene in una scuola, l'istituto tecnico industriale Panetti. È importante fare prevenzione e non solo, è importante informare i ragazzi, è importante incominciare a far capire loro che queste attività le devono poi ricordare e ripetere anche quando saranno fuori della scuola e per il tramite dei ragazzi anche informare le famiglie. Gli allunni delle classi quarta e quinta si sono sottoposti a questo screening, acquisizione dei dati anagrafici, consegna del contenitore, guanto per la raccolta delle urine, pressione arteriosa e valutazione finale con indicazioni per il medico di base. Le malattie renali purtroppo sono delle malattie che sono subdole, non danno avvisaglia della loro presenza, non danno sintomi e quindi abbiamo fatto uno screening che noi stiamo facendo in questa scuola, abbiamo scelto questa scuola in cui prevalentemente si fa una misurazione della pressione arteriosa e un esame delle urine. Le malattie renali si diffondono sempre di più o c'è maggiore conoscenza? C'è sia maggiore conoscenza delle malattie renali ma si diffondono anche parecchio di più anche perché con l'invecchiamento della popolazione ci sono le varie malattie tipo diabete, tipo malattie cardiovascolari che influenzano le malattie renali, quindi c'è una maggiore crescita di queste malattie.